e buona prima ragazzi sono tecnici sempre sono connessione e sempre sul tour manager quest'oggi porterò avanti la parte del video conclusa si la scorsa settimana riguardante la sr alex ferguson e ds challenge mostrandovi dalla nona stagione alla sedicesima con anche poi le stagioni rimanenti arrivando fino alla trentesima per vedere cosa è successo 14 stagioni dopo il nostro ritiro mettiamola così non mi perdo in troppe spiegazioni perché onestamente se vedete la seconda parte prima della prima parte riuscirete a non capire nulla quindi se state vedendo questo video senza aver visto la parte 1 vi rimane direttamente a quella io continuo con la falsa riga dello scorso video quindi a livello di staff per quanto riguarda il direttore sportivo è sempre paratici che va ad agire sul mercato dove nella stagione facciamo principalmente uscite abbiamo come acquisto costic dalle le galaxy che questo portiere che viene a fare la riserva abbiamo lucas boaz dall'atletico paranense che è questo terzino sinistro abbiamo anche rojas dal nazionale che è questo difensore centrale come uscita abbiamo lenton che era del settore giovanile che siamo riusciti quindi a valorizzarlo abbiamo anche torri e duranville fitzgerald byndir dan hensley anthony alves barreto gertruda olmes e gonzalez le competizioni vinte sono la prima league con ben 107 punti fatti la supercoppa uefa la carava cup e la community shield arriviamo quindi a otto premier league 5 tra bock up e 6 community shield come titoli invece europei raggiungiamo quota 4 supercoppa uefa il modulo è sempre lo stesso dal vivaio ho portato su connolly che è questo tracquartista le statistiche sono sempre le stesse quindi passiamo alla decima stagione nella decima stagione abbiamo solo un acquisto che è bondarenco dallo chaktar che è questo terzino a sinistro come uscita abbiamo bertè all'arsenal per 50 milioni holmes fraser coser verduzco mckintare gonzalez e costec in prestito come trofei alziamo ancora la premier league e le fake up arrivando quindi a 9 premier league e 5 f cap su 5 il modulo è sempre l'ennesimo così come le statistiche sono sempre le stesse stagione numero 11 equivale a stagione da 199 milioni di incassi prendendo praticamente nulla perché prendiamo rainers per 20 milioni e mezzo pagando la clausola recissoria che è questa punta barra trequartista spettacolare prendiamo anche in estrosa per un milione e 6 dal milionaros che questo centrocampista centrale compriamo anche siligado guerra e terri in uscita facciamo andare martin diaz per ben 118 milioni totali al bayern monaco che con noi è cresciuto veramente tanto vendiamo anche sam morris e kuzqueta per 54 milioni a testa e vendiamo anche jones lasciamo andare poi a parametro zero pamecano e mamma e in prestito giriamo gonzalez boaz costic barreto e fan i titoli li portiamo sempre a casa perché arriviamo a quota 10 premier league 6 f cap 6 caraballo cup e 7 community shield su 10 mantenendo sempre lo stesso modulo portando su dal vivaio a il price che è questo difensore centrale i 18 anni e facendo salire anche miles carrie e è questo trequartista barra esterno di vent'anni le statistiche sono sempre quelle con mount che questa volta prende il ruolo di assist man rispetto a bruno fernandez arrivando alla dodicesima stagione torniamo a spendere acquistando scillo dal freiburg che è questo centrocampista centrale andiamo anche pedro ferreirina dallo sporting che è questo terzino sinistro prendiamo anche eletto dalla samp che è stato un giocatore molto utile e duttile soprattutto per far rifiutare anche gli altri acquistiamo botman da real madrid che è sostanzialmente stato un acquisto inutile prendiamo anche rodrigo martinez che è questo terzino destro prendiamo anche in russini e ericsson flamengo in prestito come eccessione abbiamo barreto lucas boaz gonzalez e costic che sono i giocatori che erano stati acquistati principalmente per la prima squadra e poi abbiamo carter fran o'neill in estrosa e in al termine della dodicesima stagione arriviamo a 11 premier league su 13 conquistiamo la sesta champions league quindi una cento su ogni due stagioni praticamente arriviamo a 7 fk ea 8 community shield su 10 la tattica è sempre la stessa questa volta non portiamo su nessun calciatore dal da settore giovanile a livello di statistiche cambia un po perché abbiamo l'unico come capocannoniere che ha ottenuto il voto me dopo alto è reinders trascore l'assist botman è quello con la migliore percentuale di passaggi completati e renders è stato dato più volte una partita tredicesima stagione e come a questi abbiamo domenette dalla lilale che è questo centrocampista offensivo di 23 anni acquistiamo a titolo definitivo flamengo acquistiamo moraca dall'inter che è questa punta centrale acquistiamo correa dall'atletico nazionale rauci neilor e grossi vendiamo cillova e scerri entrambi al bayern monaco in estrosa va anche lui in germania e poi vendiamo smith wiseman gertruda nugent conian correa e suarez con le competizioni arriviamo a 12 premier league ea 9 community shield la tattica è sempre la stessa e come giocatori non tiriamo su praticamente nessuno le statistiche sono sulla falsa riga della stagione precedente arriviamo alla quattordicesima stagione e continuiamo a spendere in cassare riprendiamo bots dal bayern compriamo prisco che è questo difensore dall'inter compriamo antonio dal betis siviglia che è questo trequartista compriamo johnson dalla zed alkmar che è questo terzino destro compriamo sanchez dal bayern monaco e questo terzino sinistro compriamo krukov dal sion che questo centrocampista centrale acquistiamo anche caicedo che è questo difensore centrale arrivato dall'atletico nazionale acquistiamo anche vitellaro cosdo e trettenbach come cessioni diamo ferrerina al bayern monaco bondarenco all'inter poi vendiamo martinez thomas grossi rauci nailor benbi ammond free name guerra price jonas caicedo flamengo e correa come competizioni siamo al capolinea perché arriviamo a 13 premier league vinte su 13 dilaghiamo con 8 fk su 5 stessa cosa per le caraba ca perché arriviamo a 7 su 4 e raggiungiamo anche il traguardo delle community shield arrivando alla decima a questo punto quindi pareggiamo il numero di premier league superiamo il numero di fk superiamo il numero di caraba cup superiamo il numero di champions league pareggiamo il numero di community shield superiamo il numero di supercoppe uefa e pareggiamo il numero di mondiali per club nella penultima stagione incassiamo ben 241 milioni spendendone solo 82 prendiamo suscovic dall'atalanta che questo difensore centrale che gioca anche a centrocampo prendiamo in cagna dalle stante tn che questo persino acquistiamo anche andrea ajovsky william franger ansufati a parametro zero e de bartolomeo a parametro in zero come cessione abbiamo domenek e prisco entrambi al bayern monaco vendiamo johnson a reale flamingo all'inter gill a rangers longridge muskart luiz faravanti e ai sedo come competizioni vinciamo solo la premier league mentre il modulo e le statistiche bene o male sono sempre quelle alla sedicesima e ultima stagione spendiamo 148 milioni comprando berger dallo stoccarda che è questo portiere jaime dal bayern monaco questo terzino doroshenko dal celsi che è un trequartista poi abbiamo un prieto getti e guelfi e maio rino le eccessioni sono antonio al bayern monaco e boat sempre in direzione germania suarez correa krukov garnaccio william bacchilega bet vanoel andrell andrews mclean caicedo meron e vitellaro concludiamo in bellezza perché vinciamo la premier league con gli stessi punti del manchester city e vinciamo anche la community shield arrivando in totale a 15 premier league 8 fake up 7 carava cup 6 champions league 11 community shield 4 supercoppe uefa e un mondiale per cup portano a casa in 16 stagioni 52 trofei in media 3 trofei a stagione di cui 41 trofei inglesi e 11 trofei europei sfornando tra l'altro talenti perché il pallone d'oro alla fine è stato un egemonio nostra perché dalla stagione 28 29 la stagione 36 37 qualsiasi vincitore è passato per le nostre griffie che sia o il o che sia renders con o il und che alla fine conclude dominando perché alla fine si ritrova dopo 16 stagioni ben 10 palloni loro con 12 palloni d'oro portate a casa in 16 stagioni se aggiungiamo anche due di renders quindi questa è l'eredità che lasciamo ai nostri successori da qui passeranno 14 stagioni e vediamo cosa è stato fatto in queste 14 stagioni però lasciati con questa classifica e vediamo che la premier league l'anno dopo la vince al manchester city seguita ancora da manchester city con lo united che scivola al quinto posto seguita dall'arsen con united che finisce il quarto posto seguita dallo united che torna a vincere la premier league nella stagione 2041 2042 ma non rimane al vertice perché l'anno dopo arriva quinto con il liverpool che vince il campionato torna a vincere ancora il city con lo united che è ancora quinto l'anno dopo lo vince il liverpool con lo united che finisce quarto migliora di qualche posizione arrivando secondo ma sotto il liverpool per poi scendere al quinto posto con il liverpool ancora campione il liverpool rimane campione anche nella stagione 2047 2048 con lo united che finisce terzo stagione 48 49 c'è il brighton che vince sorprendentemente la premier league con lo united che arriva sesto stagione dopo lo vince ancora il liverpool con lo united terzo stagione 5051 vince l'arsenal con lo united che finisce quinto mentre l'ultima stagione disputata venate da riva terzo quindi prolla completamente di prestazioni la squadra che avevamo lasciato a capo adesso dello united c'è addirittura scalvini che è un calciatore che ho allenato in fc c'eravamo lasciati con la vittoria del celsi contro l'arsenville nella stagione 2037 e 2038 vediamo che nella stagione successiva lo united non arriva neanche in finale stessa cosa per la stagione 39 40 stessa cosa per la stagione 40 41 stessa per la 41 42 stessa per 42 43 43 44 ancora non c'è segno della united e stessa cosa per 44 45 45 46 idem 46 47 uguale 47 48 lo united vince la fake up vince anche la stagione successiva rigori contro city nella 49 50 non arriva in finale stessa cosa per la stagione 50 51 e stessa cosa per la stagione 51 52 l'ultima cravo cup con noi alla guida l'ha vinta l'arsenal contro il newcastle e vediamo che l'anno dopo lo united non compare in finale nella stagione 38 39 lo united vince la cravo cup nella 39 40 non arriva in finale nella stagione 40 41 non arriva in finale nella stagione 41 42 arriva in finale ma perde nel 42 43 si rifà vincendo la finale nel 43 44 non arriva in finale nel 44 45 vince la cravo cup contro il newcastle nella stagione 45 46 non arriva in finale stessa cosa per il 46 47 per il 47 48 per il 48 49 per il 49 50 per il 50 51 e per il 51 52 l'ultima champions l'aveva vinta l'inter l'anno dopo la vince paris angelman nel 38 39 non compare lo united stessa cosa per i 39 40 40 40 41 nel 41 42 lo united vince il derby di manchester in finale nel 42 43 non riesce a tornare in finale stessa cosa per i 43 44 stessa cosa per i 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 e 51 52 l'ultima dei scelta come uniti scelta la vinta peter il manchester city vince cd spesso come uniti scelta cd la vinta che con uniti scelta vinta la vinta il manchester city vediamo che l'unanic e di si rifà la stagione dopo nel 37 38 ba stessa cosa per i 38 39 che la vince nel 39 40 non partecipa il 40 41 nemmeno nel 41 42 nemmeno nel 42 43 partecipa ma perde, nel 43-44 non partecipa, nel 44-45 non partecipa, stessa cosa per il 45-46, nel 46-47 la perde, nel 47-48 non partecipa, nel 48-49 la perde, nel 49-50 la perde, nel 50-51 non è presente e nel 51-52 non partecipa. L'ultima Supercoppa UEFA l'ha vinta la Juve, vediamo che nel 37-38 lo United non c'è, così come nel 38-39, nel 39-40, nel 40-41, nel 41-42, nel 42-43 c'è e la vince, non c'è nel 43-44, nel 44-45, nel 45-46, nel 46-47, nel 47-48, nel 48-49, nel 49-50, nel 50-51 e nel 51-52. Il Mondiale per club, come sapete, o per chi non lo sa, si disputa ogni 4 anni. C'eravamo lasciati con il Manchester City che l'aveva vinto, 4 stagioni dopo lo vince il PSG, nel 2045 il Manchester United perde in finale contro l'Inter, nel 2049 invece lo United non arriva neanche in finale. Per quanto riguarda il pallone d'oro, dopo l'ultima stagione che l'aveva vinto Reinders nel 2036-2037, nessun altro calciatore dello United l'ha poi più vinto. L'hanno vinto principalmente Djordjevic dell'Inter, che adesso sta anche ritirato, e l'ha vinto questo Carvalho del Bayern Monaco, che adesso si è trasferito al Chelsea. Eulund in pratica ha concluso la carriera al Manchester United nel 2040, totalizzando 897 gol in 522 presenze. Anche Reinders alla fine ha concluso la carriera al Manchester United nel 2050. Quindi questa era la Sir Alex Ferguson abbinata al DS Challenge che sono andato a fare. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete, non mi sono nominato lei e bella rega. Ciao!